c'era una volta un vecchio contadino era sua abitudine durante la stagione invernale occuparsi della cura del tetto della sua casa per far ciò però necessitava di un buon numero di pietre da posizionarvi ci sopra in alcuni punti strategici nel sollevare dal terreno una di queste pietre trovò una serpe completamente intirizzita dal freddo dopo un attimo di esitazione ne ebbe subito compassione e disse povera serpe adesso provvederò io a scaldarti così la prese e se la mise in seno dopo qualche ora la serpe cominciò a riscaldarsi riprendendo così pian piano la propria natura quando si accorse di trovarsi in seno al contadino Sibilo sono stata salvata da quest'uomo ma ciò non gli eviterà la morte e così morse il benefattore uccidendolo il contadino morendo disse o quello che mi merito poiché ho avuto compassione di quella malvagia la favola mostra che i malvagi sono immutabili anche se sono trattati con estrema bontà